musica ci sono tre persone andiamo basta cambia stanza un attimo posso rimettermi i vestiti corretti? no madonna devi girare così basta è orribile devi girare così preferisco la morte per 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 è orribile è orribile world of zombies casa sull'albero casa sull'albero andiamo nella casa sull'albero bene è il mio tempo io appena mi sistemo arrivo sembro una zoccola con questo nuovo vestito io sono apparsa ho sentito all'irandom quale cazzo di pelle avevo prima? non sai che sto facendo fatica a ricostruire una cosa? e somigliasse anche lontanamente ai miei vecchi vestiti sono diventati troppo vecchi non riesco a ricordare battetemi cielo nero e lungo naturalmente aroni naturalmente sono pronti sei bellissimo grazie tu dove sei? sono bellissimi i tuoi nuovi abiti sono bellissimi come te stasera cioè le peggiori esperienze si scomento che sei io ma va bene perché lo sono anche io sei così è vero è strano che aron non è stato ancora mandato e fu così non voglio che cada non ho detto che mi hai rubato il posto zoccola ti vendico tu sei un armadillo gay? come si è permesso? come si è permesso? no le pe- no le peggiori sei falsa uè fratm fratm madonna mia lendra 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 è napoletano basta lendra lendra dispiace mamma 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 tue bo 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 tentativo di scrivere qualunque cosa o sacci si certamente perché mentre voi parlate di boiata a me è venuta voglio rigiocarmi tutti i fenix wright tutti i fenix wright tutti i sattorni ma nello specifico voglio giocare gli fenix wright ma tu ce ne frega niente vattene via dove è finito? ma dai è quello che non capisco no ma mentre sento boiata gliene voglio rigiurare qualcosa va benissimo così di dove sei? ok cugino discutiamo discutiamo del splodi 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 matematica bene allora per l'impatia no bisogna di qualcosa di divertente no ma hai letto quello che ha scritto di dove sei? latina tu? matematica io lo segnalo sessualmente esplicito informatica a bobbazza a bobbazza a bobbazza a bobbazza a bobbazza perchè? è crashato cibè 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 what are you doing? cibè �ardi cibè cibè si chiama cibè 95 5 Mi sto chiedendo l'amicizia Fogna fantastico Questa cosa mi mancava sono una droid a droid Bene io vado nella capsula del tempo Sei una bambina Sei una bambina Cugino sei una bambina Basta fare quella sigla che non capirà solo chi ha più di 17 anni Sei una bambina Tutta la sai la canzone E' finito Stai passeggiando in giro Sono Harry Potter Sono Harry Potter Segnalare dentro Sono Harry Potter Attendi Aspetta Dio Poco E' poco Purtroppo è poco Non c'è molta scelta Vero cibe Cibe Vero cibe Vero cibe lol La musichetta La musichetta E' bellissima E' addastissima la situazione Cigli Ma dove cigli? Bellissimo cigli Aspetta un attimo BASTA 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 È giusto Come che non è ancora sentato Dubs Per qualunque cosa esista Aaron Aaron sei pronto Aaron No Aaron Madonna Madonna Gesù Oddio No Giulia mi ha richiesto Perché si chiama Frederick? Amore pizzaiolo! Amore pizzaiolo! Viva Nerone e i peschi! Scusami perché quella ragazza si chiama Frederick? Frederick Frederick con la R No c'è scritto Frederick C'è scritto FREDERIC Leggi C'è scritto Frederick dove cazzo leggi Frederick? Non è possibile cosa stavo leggendo Sono pazza Posso levarmi a te? Si Bene Un Minion Si Un Minion 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 Morirai gravemente Ti sparo sulla coscia Ti sparo sulla coscia Ti sparo sulla coscia Cosa? 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 Un Minion Un Minion Un Minion Un Minion Punto